Pagare le tasse non piace a nessuno, ma ce ne sono alcune che proprio non vanno giù ai cittadini e secondo un'indagine effettuata dall'Associazione Difesa del Consumatore su un campione di circa 300 veneziani ce n'è una in particolare che occupa il primo posto tra quelle sgradite. È emerso che la tassa che i veneziani mal digeriscono è quella legata al canone. Addirittura è risultato a due punti superiori rispetto a quella che è la tassa sulla casa, mentre a terzo posto sono risultati i ticket sanitari. Seguono poi bollette di vario genere, bollo auto, cartelle esattoriali, ma sono comunque successive al canone che ora fa arrabbiare ancora di più per il fatto che venga recapitato direttamente nella bolletta. Non va assolutamente giù perché non è giusto paragonare un canale Rai, come detto, a dei canali privati e subbarcarsi queste per pubblicità e soprattutto non va giù come associazione dei consumatori in quanto noi riteniamo giusto che una bolletta che è già difficoltosa oggi poter riuscire a leggere ci troviamo a nuove voci inserite nei nostri fogli, nei nostri prospetti. Non solo. Non riteniamo giusto che debbano pagare il canone chi ha una connessione internet perché sono anni che stanno tentando di farle pagare anche le attività commerciali e i dipendenti non guardano i canali Rai durante il lavoro, l'orario almeno, e soprattutto non troviamo giusto che un indomani qualora dovessero insorgere dei problemi con la Rai che ricordiamo che ad oggi c'è un numero a pagamento al quale rispondono il telefono ci si debba rapportare magari con un gestore che ha un call center, chissà dove può averlo e oggi siamo abituati a considerare i paesi quali Tirana per esempio. Questi sono solo alcuni dei motivi, ce n'è un altro? Deve essere come tutte le tasse pagate per chi è un utilizzatore. Ad oggi non possiamo pensare che questo utilizzatore sia individuato così in maniera indiscriminata ma dovrebbe essere più che altro pagata da chi realmente guarda i canali Rai o decide di volerli guardare. In questo momento riteniamo che non ci sia una libertà di scelta.